benvenuto bentornato su vita da videomaker live show anche oggi andiamo a commentare il backstage di uno dei film candidati ai david 67 david di donatello e questo film è un film particolare perché poi lo vedremo ma soprattutto perché abbiamo un ospite speciale anche questa volta ne parleremo insieme a chi ha realizzato il backstage quindi lo commenteremo veramente approfondendo chiedendo curiosità facendoci raccontare l'esperienza diretta di chi ha vissuto il set lo facciamo insieme ai nostri compagni di viaggio lorenzo castagnoli bentornato e c'è anche giugge bentornati ragazzi bentornati e questo è il non appuntamento che parliamo e commentiamo di dei film candidati a questa edizione del david di donatello per e e oggi tocca proprio a tre piani di nanni moretti che era in concorso a can l'anno scorso 2021 esatto bravo hai fatto bene a dirlo nonostante fosse anche appunto tra le candidature ai david 67 candidature ce le ricordi tu era una se la candidatura è per la migliore sceneggiatura non originale fantastico eccolo qua tre piani è il film di cui parleremo oggi e lo facciamo appunto con un ospite speciale eccolo qui lo vedo benvenuto con il realizzatore ciao buonasera a tutti e grazie 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 a te oggi appunto abbiamo la possibilità di chiacchierare con te di qualcosa e ci accomuna cioè la passione del cinema e la passione se vogliamo anche di quella che è la macchina del cinema come viene fatto come viene realizzato un film per il grande schermo allora elio io ti ho definito qui filmmaker ci racconti nello specifico dell'esperienza dei tre piani cosa hai realizzato hai realizzato le riprese il montaggio la regia che ruolo hai avuto tutto perché perché nanni a parte che sul set di nanni succede una cosa che è unica nel senso che anzi prima ancora del set e cioè che l'operatore backstage voi siamo tutti pratici qui di ordine del giorno quindi se uso determinati termini sappiamo tutti di che cosa sto parlando però i film di nanni moretti sono gli unici in cui l'operatore backstage nel reparto regia e non nel reparto fotografia ora questa cosa potrebbe non dire nulla a molti però in realtà è una posizione abbastanza chiara cioè nel senso nanni moretti sceglie il regista del backstage voglio dire chi chi si deve occupare delle riprese del backstage di di un film in anni moretti sa che dovrà che il lavoro non sarà facile che ci vorrà un'idea di base di partenza che dovrà anche banalmente la mole di di materiale richiesto cioè nanni chiede una specie di a tutti gli effetti documentario la lunghezza è consistente cioè il backstage di tre piani dura 45 minuti partendo da un premontato di un'ora e sette tipo questa sono numeri che non si dimenticano e quindi e quindi insomma niente cioè nanni fa personalmente le convocazioni insieme al suo aiuto regia decide i giorni in cui devono essere presenti ehm l'operatore di backstage e il fotografo di scena e ricorda pure a ciro ricorda la legia ciro scognamiglio esatto eh mai personal hero io sono legatissimo a ciro perché eh abbiamo fatto con lui al centro sperimentale delle lezioni bellissime ehm e a me piace anche pensare che un po' il link poi per nanni moretti sia nato sia nato un po' da lì e e quindi no eh si si viene anche convocati alle a a filmare cose collaterali al set per esempio io su tre piani ho girato tantissimi sopralluoghi ho girato tantissime prove costume eh l'incisione delle musiche sono andato qualche volta nella stessa giornata del set quindi era come se facessi la doppia giornata ma eh altre volte in giorni diversi le prove per delle scene particolarmente complicate che si sarebbero girate di lì a qualche giorno quindi insomma si va a casa con una mole di materiale spropositata alla quale poi bisogna bisogna dare forma e diciamo che ehm si ha poi cioè il il fatto è che sia all'imbarazzo della scelta perché almeno per quanto mi riguarda io vorrei sempre vedere nanni moretti in azione spiegare una scena quindi io lì eh non vorrei anticipare qualche domanda che forse farete però insomma per dire io durante il montaggio che ho fatto con lui cioè io ho fatto delle cose io però poi ehm a cadenza circa bisettimanale ci vedevamo e e studiavamo insieme le 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 soluzioni però diciamo che io qualche volta ho dovuto combattere cioè qualche volta lui ha dovuto dirmi senti questa cosa è noiosa toglila altre volte invece ho dovuto io combattere con lui dicendo nanni però questo momento è vero che è lungo però mettiti nei panni di un giovane eh regista un giovane videomaker qualunque cosa sia che che ti vuole vedere all'opera e se ci sono due tre quattro minuti di te che spieghi per filo e per segno una scena all'operatore al direttore della fotografia all'attore eccetera è è oro questa roba ha un valore inestimabile è vero me l'ha lasciata me l'ha lasciata e quindi bellissimo ti vediamo c'è un controllo totale ma non voglio dire un controllo totale nel senso di morboso dittatore no no c'è un controllo nel senso che per nanni moretti il backstage è una cosa costitutiva del film tant'è vero che questo l'ha mandato in sala quando si dice il backstage è una cosa seria il backstage è una cosa il backstage i backstage sono importanti è la sua identità pura bella questa mi piace tantissimo una citazione una semi cheat semi cheat allora io direi di andarci a vedere i primi minuti e poi ci parliamo sopra vedendo le immagini commentiamo e sicuramente ci saranno spunti su cui ghiacchierare va benissimo già dall'inizio si capisce l'emozione no questa questo si come si può capire questo è il l'ultimo giorno il day 80 perché tre piani è durato 16 settimane ultimo giorno di riprese la fase delle riprese quella per me più faticosa e più angosciante però durante questo periodo insomma ero contento di fare questo lavoro di fare questo film di stare girando e girando questi queste tre storie insomma il prossimo è quello è quello che volevo fare da ragazzo e quindi ho avuto la fortuna di di vedere esaudito il mio desiderio e devo onorare questa fortuna che ho avuto e quindi cerco di farlo al meglio il prossimo non passeranno cinque anni assolutamente no adesso non voglio far prendere una infatti già sei lo possiamo dire e c'è sì sì ma è di dominio il motivo per cui ti vediamo anche così un po stanco perché tarda serata sei tornato dal set io sto tornando ora dal set e mi sono ho aperto il computer e ho parlato con voi sì oggi tra l'altro abbiamo fatto pure un'ora di straordinario perciò è successo il panico però però sì non ne sarebbero ne sarebbero passati anche meno se non ci fosse stato il covid perché perché tre piani è stato girato da marzo a giugno del 2017 del 2019 scusatemi 19 19 è 19 e 17 immaginate che è comunque una vita a far mai una lavorazione fin troppo tribolata sarebbe stata no 2019 poi nel nell'anno in cui sarebbe dovuto uscire c'è stato il covid e quindi tutto ha avuto un anno di ritardo sia il festival di Cannes a luglio 2021 e le riprese di questo che sono in corso adesso 2022 ma si sarebbero potute fare un anno fa invece queste interviste tutto il materiale di backstage comunque è stato chiuso entro il 2019 no nel senso che io colpevolmente devo dire che sono stato un po in ritardo con la lavorazione ma perché questo perché comunque non è che immediatamente alla fine delle riprese io mi sono messo a montare anche perché Nanni mi coinvolgeva in altre cose c'è stato un'ulteriore fase di registrazione delle musiche quindi diciamo che anche la lavorazione del backstage è durata tantissimo e a conti fatti noi lo abbiamo chiuso praticamente forse un anno fa cioè poco prima di Cannes scorso cioè quindi anche il backstage è stato molto parcheggiato anche perché voglio dire non c'era obiettivamente necessità di correre quindi e poi perché all'interno del backstage ci sono dei frammenti del film e che Nanni mi consegna mi ha consegnato non ricordo se sì durante il montaggio comunque cioè li sceglieva lui e tramite l'assistente al montaggio me li faceva avere e poi comunque su alcuni di questi abbiamo cambiato abbiamo cambiato insieme qualcuno è sopravvissuto qualcun altro lo abbiamo cambiato insomma anche il backstage ci è voluto molto poi voglio dire Nanni Moretti è anche generosissimo cioè fa le cose come si deve con grandissima generosità anche cioè questo backstage ragazzi è stato colorato in flat parioli è missato con lo stesso colorist lo stesso missatore del film e quindi immaginate anche io che non ci potevo credere di stare lì vicino a loro vicino a Red Andrea Baracca e vicino a Paolo che onore che onore con Red che onore cioè vederli lavorare io lì che non aprivo bocca fra l'altro poi Nanni è venuto in color credo che noi abbiamo fatto non ricordo se abbiamo fatto forse un giorno di color e due di mix o viceversa questo in questo momento mi sfugge però mi ricordo che Nanni è arrivato e forse anche è stato è stato bravissimo lui è un uomo straordinario e quindi è stato bravissimo a leggere una mia timidezza nel forse timore reverenziale nel rivolgermi ad Andrea Baracca e dirgli apri questo aiutiamo un po' lui chiudiamo un po' qua allora Nanni qualche volta ci pensava lui mi diceva Andrea apriamo un po' qua che dici Elio? io dico che dico come no e quindi perché parliamo di un grande colorist numero uno che abbiamo in Italia è un mago è un mago cioè erano tre quarti d'ora di backstage lui proprio su quella console volava ma poi al di là della velocità tecnica che questo voglio dire anche un anche uno smanettone di 16 anni può essere un un genio su una console su una tastiera con delle con delle cose però il gusto che c'è lì c'è le cose che ho potuto imparare ragazzi durante tutta a parte il set ok cioè tu sei su set in anni moretti orecchie antenne dritte e ti rubi tutto ma poi durante il montaggio del backstage l'importanza che deve avere l'importanza che deve avere il margine di un fotogramma il fotogramma in più o in meno e poi alla color l'importanza che deve avere per esempio l'incisione o no la pasta fotografica cioè pasta fotografica è ovvio però dico una cosa che mi ha colpito del vedere lavorare Red è come lui lavorasse a togliere digitalità all'immagine non so come dire bene però io mi ricordo questo questa sua prima stesa di color in cui lui ha praticamente tolto contrasto alle clip insomma ha reso tutto più morbido ha reso tutto più stata una cosa incredibile e poi reso materico quasi eh sì sì molto più vicino al film non tantissimo eh perché poi questa cosa su questa cosa eh l'anni è stato giustamente molto aperto cioè non è che doveva essere una la brutta copia del film il film ha una fotografia molto morbida Michele poi fa una fotografia bellissima eh senza luce cruda pochissime ombre insomma morbidissima e il backstage è andato in quella direzione ogni volta che è stato possibile continuiamo a sentire che dice va in questa sua confessione perché sembra appunto quasi questa non è un'intervista cioè lì è è un momento in cui io sono riuscito ad acchiapparlo ho detto Nanni se ti dici un attimo qua dimmi delle cose perché Nanni per esempio questo è un è un fatto che poi ti mette nei guai però insomma è anche quello che rende unico il lavorare con lui Nanni non non vuole le interviste cioè non esiste che tu ti prendi gli attori li microfoni con il tuo bravo radiomicrofono road li siedi da una parte un quarto d'ora cioè su un sette Nanni Moretti questa cosa è inimmaginabile eh però bene così perché 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 il backstage poi assume una forma un altro tipo Proviamo a sentire qualche altro pezzetto e poi andiamo avanti anche con altre location altre situazioni e ci racconterai La piega tragica a questa chiacchierata però insomma davanti ho meno tempo rispetto a trent'anni fa e quindi insomma bisogna stringere Margherita questa è una citazione è il titolo di un capitolo come come l'avete pensato c'è nel finale del questa lo possiamo rivelare lo vogliamo rivelare nel finale del backstage c'è questa frase cioè lui quando nella scena che abbiamo visto in apertura con Alba Rorvacher alla stazione di Sutri ehm lui la sta dirigendo ai monitor e a un certo punto eh lui sta parlando con lei tramite radiomicrofono no? E allora la dirige e dice eh fai così 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 e poi chiede speranza un po' folle ma senza troppo recitare la follia e io lì per lì ho detto madonna come si fa come si fa a dirigere un attore così cioè come ti viene in mente di di poter dare un'indicazione del genere a un attore poi vabbè sono passato attraverso roba sinceramente da da arresto tipo la stanza di Nanni il quarto piano e menate simili poi a un certo punto sono andato da Nanni ho detto Nanni ma senza troppo recitare la follia e lui non mi aveva approvato immediatamente però diciamo che non aveva detto no subito ecco poi alla fine si è affezionato pure lui è uscito senza troppo recitare la follia tra l'altro su questo set dove stiamo adesso su questo nuovo eh in uno dei primi giorni di set lui ha detto a un attore adesso non ricordo in che circostanza ha detto senza troppo recitare l'imbarazzo allora sono andato da Nanni mi ha detto Nanni ma è risolto pure questo qua questo è il sito fai la treologia alla fine dai esatto poi sarà senza troppo recitare la sottomissione che ne so magari da se la accorciamo e la invigoriamo particolarmente ci rischio di dar un po' di salute di salute noi non vogliamo dare salute no no credo il contrario no io devo avere cinque anni più di adesso o dieci anni più di adesso eh beh devi avere dieci anni di più della prima parte Ma la prima parte è a togliere, cioè a cercare di... La prima parte è quattro anni fa, la seconda parte è l'anno prossimo e la terza parte è tra sei anni. Questa ce la potrebbe avere anche lui, che poi sarei io. Cioè è uguale? No. L'abbiamo comprata stock? 30% di sconto all'autogrill. Potrebbe essere un po' dello stesso... No! No! Dico, se tu non metti questa, io ne potrei avere una tipo quella. Ah, se non la metto io! E' quello che stiamo cercando. Marlon Brando e Massimo Girotti hanno la stessa vestaglia, in ultimo tango a Parigi. Ah! No, Marlon Brando e Massimo Girotti. Sì, Marlon Brando e Massimo Girotti. Il marito e l'amante. Ehi, grazie. Ehi, grazie. Perché gliel'ha regalata lei? Ehi, grazie. Ah, sì, sì. Considerando che i film di Nanni Moretti sono i film di Nanni Moretti, cioè è un autore vero e proprio, si riconosce, ha un'impronta molto, molto, non dico invadente, ma comunque è importante, anche nel backstage si è voluto dare un grande peso alla sua personalità al regista del film, c'è stato un approccio di questo tipo, secondo te? Gliel'ho voluto dare io, gliel'ho voluto dare io perché ho ritenuto che non potesse essere che così, anche perché, voglio dire, non è nemmeno una questione di idolatria da parte mia, non è nemmeno una questione di celebrazione, encomio, cioè è proprio un fatto che obiettivamente da Nanni c'è da imparare sempre. È un regista con una preparazione tecnica incredibile, con un'attenzione a dettaglio che dovrebbe fare scuola presso i giovani, se mi posso permettere, a tutti i livelli, e lo dico per mia esperienza, cioè nel senso che mentre stavamo montando mi sono accorto di quanto lui stesse attento ai dettagli e di quanto io invece, convinto di aver fatto un lavoro eccezionale di montaggio, selezione, invece avesse lasciato delle sbavature dentro. Però no, non è un accentratore, cioè non è uno che vuole stare in scena sempre lui. Per esempio sul film, questo qui che stiamo girando adesso, un giorno mi ha chiesto lui di fare una ripresa, e a un certo punto mi ha quasi cazziato dicendo, Elio, ma lo vedi che non ci sono solo io che sto facendo questa cosa? Cioè spesso, qualche volta mi dirige, dice però fai anche una panoramica verso lì, mentre io invece starei sempre su, cioè per quanto mi riguarda starei sempre su di lui, capito? Viceversa ci sono delle volte in cui lui un po' sente la macchina e allora qualche volta si diverte, però non è mai una cosa di Elio riprendi me e solo me perché è il mio film e devo stare io al centro, cioè non è assolutamente questo. Nanni vuole che io racconti il suo film e quindi in quel momento chi sta avendo un ruolo importante viene raccontato. È il caso di Franco Piersanti, per esempio, quando abbiamo inciso le musiche o gli attori. Ti riporto la domanda di Daniele qua dalla chat, che chiede qual è la differenza tra realtà e recitazione di Nanni Moretti, tra il set, tra il ciak e la vita reale. Devo dire che Nanni è un grandissimo direttore di attori, per quanto riguarda invece se stesso ovviamente dipende dal film. In tre piani lui ha dovuto interpretare un giudice anziano, forse anche più severo, no forse, cioè più severo di quanto non sia Nanni in realtà, però con una certa comunanza di vedute, con un codice morale secondo me condiviso, giustamente condiviso. E quindi diciamo che in tre piani c'era un minimo di scarto fra come è lui nella realtà e le battute che pronuncia, però appunto dipende dai personaggi che deve interpretare. Per esempio, io non ero sul set di mia madre, però mi verrebbe da pensare che forse il personaggio di Nanni e mia madre gli somigli di più di quanto non gli somigli di giudice, però questo non so nemmeno se è vero poi e come lo percepisco io. Un'altra delle difficoltà di realizzare un backstage è che si è a tutti gli effetti una presenza in più, una ulteriore videocamera sul set che spesso può pure un po' dare fastidio, essere ingombrante o essere il rompiballe del momento. E tu come la gestisci questa cosa? Soprattutto rispetto a questa specifica esperienza, come si riesce a trovare un equilibrio? Allora ragazzi, va considerata una cosa, che questo di Nanni Moretti è stato un battesimo del fuoco abbastanza importante, perché io sono stato chiamato a lavorare su questo set, avendone fatto nella mia vita di set veri uno solo, ma moltissimi anni prima e praticamente senza mansione. Io qui mi trovo ad andare su set in Nanni Moretti e devo imparare a stare su un set. E lì, spero comunque filmando, e lì diciamo che niente, bisogna essere solo un pochino, bisogna avere un po' gli occhi aperti e le orecchie aperte, cioè bisogna percepire quel piccolo decibel di distanza in cui in Nanni magari sta dicendo una cosa interessante al direttore della fotografia, allora tu stai da tutt'altra parte e fai una corsa. Poi c'è il discorso classico di stare o non stare in asse, ecco tipo qui, no? La scena che stiamo vedendo. Io qui sto dietro la macchina da presa, moltissimi attori li impazziscono. Non vogliono vedere, perché sennò poi il loro sguardo incrocia il tuo e si distraggono. Qualche volta hanno molto ragione, qualche altra volta lo fanno veramente, che forse potrebbero fare il sacrificio, però vabbè. E poi il rapporto, diciamo bisogna imparare a, bisogna cercare di farsi voler bene dalla truppa, cioè bisogna fare in modo che per esempio la squadra di fotografia quando gli vai vicino non debba stare lì a limitarti sempre, ma devi far capire che tu sei lì, vuoi fare il tuo lavoro, ma comunque senza mai disturbare il loro. Quando loro capiscono che tu non sei lì a pretendere, che non sei prepotente, che non sei invadente, allora ti vogliono bene e sono loro stessi col tempo a dirti toh, siediti qua, ti mettono un cubetto vicino alla macchina da presa e ti fanno sedere vicino a loro. Però bisogna, bisogna saperlo fare, non bisogna arrivare su un set, perché il lavoro del backstage è importante. Però io penso una cosa, che se non si presenta l'assistente operatore il film non si può fare. Se non si presenta l'operatore il backstage, il film si può fare, ok? Quindi, diciamo, bisogna arrivare con una consapevolezza delle proprie cose da fare, però senza, come dire, essere prepotenti. Un po' insieme a dire... Però avevi il vantaggio comunque di essere stato scelto da Nanni, quindi sono lì credo che... Esatto, mi hai anticipato, mi hai anticipato, l'avrei voluto dire. Ci sono state anche delle giornate in cui, per esempio, e lì sai, ti senti gli occhi di tutti addosso, ti senti un po' imbarazzato, è stato magari Nanni a favorirmi, dicendo, aspettate, facciamo fare questa cosa a Elio, Elio fai questa cosa, oppure diceva, qualcuno spostati, sta facendo la ripresa a Elio, cioè, Nanni è così. E tu lì, scusa? Lì, lì... Ah, ma è bella questa cosa, comunque, che un regista tenga così, cioè, come se tu fossi un altro operatore, cioè, interessantissimo questa cosa, di lui davvero che, in un processo in cui sta appartoreando un figlio, pensi anche effettivamente all'altro figlio, cioè, hai capito, che potrebbe essere un secondario, come ti posso dire. È assoluta come cosa. Sì, ti fa sentire, ti fa sentire importato. Poi ci sono delle volte in cui, magari, anche Nanni mi ha detto, Elio, scusami, adesso non è il caso. Però va bene, cioè, voglio dire, se no, mica, non si può pensare di fare la prima donna, cioè. Quello che dicevi tu, alla fine, cioè, tutto il resto serve, il backstage può essere sacrificato in alcuni casi, però ci sta, cioè, alla fine... Sì, sì, ma perché... Allora, il fatto è che il set è un ingranaggio così perfetto e anche così bello quando funziona armonicamente, che perché bisogna andare fuori dal proprio seminato, come si dice da me giù, no? Cioè, perché uscire dal seminato? Cioè, tu stai facendo il tuo lavoro. Poi, voglio dire, hai la fortuna di star facendo il set di Nanni Moretti. Non è un set qualsiasi, è un set dove, oltre a esserci lui, ci sono anche delle situazioni speciali che succedono, che fanno parte dell'idea di cinema che ha Nanni, per esempio, in tre piani, che ne so, la scena dei... la grande scena della milonga clandestina, ma lì, oppure la scena dell'assalto, diciamo, al centro immigrati, dell'aggressione al centro immigrati, cioè, voglio dire, questi sono momenti che basterebbero da soli a fare il backstage. Cioè, tu vai lì e ti porti a casa una molla di materiale, quindi perché forzare, no? Sì, sì, sì. Cioè, quella cosa che perdi la recuperi in quelle scene must, quasi, da must have. Ma sì, poi, ragazzi, obiettivamente tutto non possiamo registrare, cioè, che sennò dovremmo mettere, dovremmo attaccare una macchina da presa addosso a Nanni. Fare il grande fratello, proprio. Che bello, faccio la camera... La candid camera del film, poi diventa, cioè, non... Ovo di Nanni, tutto, una giornata con Nanni, la camera qua, bellissima. Con la GoPro in testa. È il format di Daniele, quello. Una giornata con... Una giornata con... Poi, magari... Daniele Santon Nicola. Magari glielo proporrò, Nanni. Un giorno solo ti metto una GoPro e tracciamo i tuoi movimenti. Mette anche un sensore di... Quello degli stadi, che vedi i giocatori dove stanno di più, vedi su un sensore di sentenza. Esatto, facciamo bene, se sta più con il monitor, se... No, ma poi lui è infaticabile, eh. Lui è infaticabile. Qui si testa la mix. Eh? Qui siete in sala mix. No, qui siamo... In sala di registrazione della colonna sonora, pardon. Stavamo incidendo ancora. No, io non sono andato... Su questo film non sono andato in nessun luogo della post-produzione. Non sono stato né in moviola, né in color, né in mix. Ma ho in mente di chiederglielo per questo che stiamo facendo adesso. Perché su questo che stiamo facendo adesso, viceversa, sono stato meno coinvolto sulla preparazione. Allora proverò a chiedere a Nanni di andare invece sulla post, capito? No, ma poi ragazzi, questi qui sono... Io non so, immagino, vorrei poter avere la loro fortuna di fare i film anch'io, però nel frattempo che non ce l'ho, immagino che mentre si sta girando un film, oltretutto un film così importante, uno sia anche un po', abbia una specie di transagonistica, cioè non avverti la stanchezza, ma comunque questi sono delle schegge. Cioè io non lo so se Andrea ve l'ha raccontato di Martone, ma Nanni, Mario... Cioè sono due registi che non stanno fermi un attimo, cioè io a Nanni certe volte non gli riesco a stare dietro, lui sta sul set, poi va al monitor, si siede, io dico, ok, calma, abbasso la macchina, manco il tempo di fare così, che quello si è alzato e sta un'altra volta di là. Ma... la follia, cioè capito? Mario la stessa cosa, Mario gira, anzi Mario spesso si fa mettere il monitor, ve l'ha detto, Andrea non lo so, si fa mettere il monitor vicino al set, che non ci vuole manco arrivare al monitorino. Al videovillage, sì. No, ne parleremo di qui rido io, abbiamo fatto solo il cattivo poeta. Ah, ok, ok. Sì, però è vera questa cosa del... cioè quando abbassi la camera è proprio il momento in cui succede qualcosa. Sì, sì, la maggior parte... e infatti io mi ci sono voluti due film, però diciamo che io un pochino... i tempi di Nanni li ho abbastanza imparati, nel senso che soprattutto nei momenti in cui magari sta dirigendo un attore, io, diciamo, poi non è matematica, però diciamo che so che se quando io credo che posso stoppare, magari aspetto un attimo, ella può succedere qualche cosa. Vediamo se ci stanno... questo mi sa che sta dando le battute. Qui sta facendo una vuota. Ah, ok. Mi manca! Pianto, pianto, pianto! Che cosa devo fare? Mi manca! Stop! Ottima! Vediamo Matteo Carlesimo, operatore alla macchina. Un operatore, ragazzi... Che cos'è Matteo Carlesimo? Un genio, un genio. È un robot. La macchina è una matita nelle sue mani proprio, non ha peso, è straordinario. Adesso sta facendo, sta assistendo Paolo Carnera con Matteo Garrone, insomma, Casablanca. Carlesimo? Sì. Sta con Carnera adesso? Sì. Straordinario. Per il nuovo film di Matteo Garrone. Che coppia incredibile. Io capitano. Carnera, poi magari chissà se avremo modo di parlarne in un'altra puntata, però con Carnera ho lavorato su due film, il secondo dei quali... Il primo è sabato, domenica e lunedì di Edoardo De Angeli, il secondo è Nostalgia di Martone. E lì Carnera... Eh, Nostalgia ce lo potremmo fare perché esce il 25 maggio. Eh, potremmo farlo, sì. Ho fatto il backstage pure di quello, quindi potremmo... Come si piange nei film. Allora, se ti chiami Stanis La Rochelle, prendi le goccine o la cipolla. Nella realtà un professionista si abitua tecnicamente a farlo. Ci sono delle tecniche, quindi è tutto un lavoro, un allenamento. Però sono spesso lacrime... Anzi, nella maggior parte dei casi sono lacrime vere. Sì, sì. Si può, si può, si riesce. Con la tecnica giusta si può fare. Ecco, una cosa che chiudiamo sempre è anche dal lato tecnico. Ognuno ha le sue scelte anche in base a quello che deve fare, naturalmente. Ma qui vediamo molte inquadrature girate a mano. Tu come preferisci approcciarti tecnicamente all'attrezzatura? Che cosa utilizzi? No, ragazzi, io sempre solo a mano. Sempre. Cioè... È semplicemente come mi sento io, come sono cresciuto io. Come operatore, come videomaker, va? Mettiamola così. Ma sempre solo a mano. Non ho mai utilizzato sul set cavalletto monopiede. Non ho mai utilizzato cavalletto to-cur. Non ho mai... Cioè treppiedi. Non ho mai utilizzato stabilizzatori, gimbal, cose del genere. Sono pure francamente una frana. Cioè nel senso che il gimbal ne ho uno. E per stabilizzarlo... Cioè per imparare a stabilizzarlo ci ho messo due settimane. No, no, no. Faccio tutto a mano. Oltretutto questo è girato con una macchina che mi aiutava pochissimo da questo punto di vista. Perché era la Sony Alpha 7S. Ora non so quanto stiamo entrando nello specifico. Però quella non aveva nemmeno il sensore stabilizzato. Ora sto usando delle macchine che hanno questo sensore famoso stabilizzato. Però... Quali? Ho la 3 e la 4. Sony Alpha 7 III e 4. La 3 adesso pochissimo perché ho bisogno di muovermi agilmente. Cioè ho soltanto... Sto usando solo la 4. E oltretutto questo backstage è girato praticamente solo con una lente. Cioè tipo il 95% delle riprese sono fatte con il 50 mm. Tutte. E quando non sono 50 mm c'è un 24. E basta. No però pure questo fatto delle macchine. Questo waltzer del modello successivo nel quale alla fine sono caduto anch'io e mi sono fatto irritire. Ragazzi francamente... Cioè come dirvi questo backstage è venuto fuori un documentario, un film come lo vogliamo chiamare di tre quarti d'ora che è stato colorato come si colorano i film quelli veri ed è andato nelle sale come vanno i film quelli veri. Ed è stato girato con una macchina che non girava nemmeno in 4K. Quindi voglio dire io adesso sì me la sono comprata la macchina che fa il 4K, il 422, 10 bit eccetera 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 eccetera. Ma non è quello il punto francamente. Non è proprio quello il punto. Interessante questo punto di vista non convenzionale spesso. Beh poi ragazzi parliamoci chiaro dipende dalla destinazione cioè io ho amici che no forse mi è capitato addirittura pure a me in un'occasione che siccome c'era Netflix di mezzo si doveva esportare in 4K. Bisognava che le riprese avessero quel tipo di risoluzione quella profondità di bit però a meno che non ci siano queste richieste specifiche ma veramente non è quello il punto. E d'altra parte con Andrea magari poi ne parleremo tutti insieme con lui con Andrea abbiamo girato qui rido io con un'insalata di macchine S2 S normale cioè questa qui poi a un certo punto delle riprese io mi presi la 3 cioè capite quindi è stata una festa al montaggio poi. Eh sì povero povero Andrea. Secondo me alla fine quello che funziona è quello che comunque comunica cioè il mezzo che usi alla fine è pointless cioè senza non serve è solo una comodità cioè immagino tu l'abbia preso comunque una comodità in più perché comunque hai qualcosa in più che ti aiuta effettivamente in quelle limitazioni che potevi avere ma cioè se è uscito fuori questa cosa qua con la prima cioè con la terza la quarta uscirà qualcosa ancora migliore. Sì sì ma poi un'altra cosa un'altra cosa per cioè questo proprio per dirvi io quando ho girato questo backstage c'era avevo questa Sony Alpha 7S e io magari a qualcuno che ci sta ascoltando questa cosa non interessa però questo per far rendere conto anche a voi della del livello. Cioè io non ho neanche girato in flat questo in log questo questo backstage questo backstage è girato con il profilo colore base della macchina sul quale io soltanto a un certo punto quando è arrivata proprio l'estate sul set che c'era il sole a picco del delle dei contrasti ingestibili. A un certo punto ho detto ma fammi fare solo sta cosa che abbassa un poco il contrasto in macchina perché sennò diventa veramente sì 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 ma al di là di questo questo è girato in full hd col profilo colore off cioè non sicuramente in questo caso ha aiutato il fatto che ci abbia poi messo mano uno dei top colorist in Italia. Sì 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 però non è che a Nanni sia piaciuto per la color mi spiego anche anche la lente qua secondo me perché il 50 comunque molto nitido rispetto a un'ottica base che c'è anche a livello di sciarpele. No però vi devo contraddire perché io utilizzavo e utilizzo tuttora le ottiche analogiche era un 50 mm 1.4 Nikkor della F3 che era di mio padre e il 24 mm era un Samyang 1.5 quindi immaginate la nitidezza del Samyang e la nitidezza su due concetti almeno quello che ho comprato io nel 2015 su due concetti antiretrici. Sì no i Samyang sì però sì no effettivamente ha qualcosa di strano cioè di diverso rispetto a un 50 mm sì sì no il Samyang a meno che tu non chiuda molto fa questo effetto che se volete è anche bello di 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 spappolare un po' le altre come se ci fosse un un glow tipo un promise tipo una roba strana quindi quindi così. Il backstage quanto è durato hai detto che l'avete completato proprio a ridosso della messa allora quasi dico quasi un anno ma però perché un anno perché magari a montare degli spezzoni di dieci venti minuti ci può essere voluta pure solo una giornata eh però un anno perché magari poi aspettavo l'appuntamento successivo con Nanni per rimaneggiare per apportare delle correzioni sulle quali poi ritornavamo quindi diciamo che tutta la post produzione del backstage fra montaggio e poi color e circa un anno. Qual è stata la scena la situazione più complicata che hai dovuto affrontare in questa lavorazione se ce n'è stata una in particolare magari pure più di di qualche situazione diversa? Allora vi dirò una cosa che può sembrare paradossale ma invece se ci pensiamo no abbiamo accennato poco fa questa cosa le più sono difficili le scene che lui deve girare le scene del film magari scene di massa scene di azione scene in cui succedono delle cose particolari tipo lui che viene picchiato al figlio e più è facile il nostro lavoro perché lì vista la situazione clamorosa bisogna proprio dormire per non portarsi a casa qualche cosa di veramente succulento quindi le scene difficili secondo me per noi operatori di backstage sono quelle che quando sei sul set lì per lì sembra in cui non sembra non possa succedere nulla di speciale tipo una scena in un appartamento dove si parla semplicemente quindi queste sono le situazioni secondo me che mi mettono più in crisi cioè le situazioni dove si sta attorno a un tavolo e si parla lì che racconti cioè a parte qualche indicazione a parte qualche ciac che ti prendi da dietro la macchina da presa ma là te lo devi un po' inventare però comunque questo era un momento di chiudere il cerchio con il montaggio questo è stato questo credo di non che io mi voglia dare merite però credo di averlo proposto io a Nanni di cominciare anche con la fine e alla fine abbiamo fatto così no però ti dicevo sul set questo qui il momento che più mi ha messo in ansia anche perché era tipo il forse se non il primissimo giorno di riprese il secondo il terzo l'incidente che poi apre il film perché perché lì ho detto cioè io sta cosa me la devo portare a casa in qualche modo cioè qua cioè qua saranno tutte cose buone alla prima come cioè ma perché hai piazzato la macchina durante quando la macchina stende il vetro esatto allora io nei backstage che ho girato successivamente mi sono portato sul set spesso due macchine cioè per esempio i film di The Angelis ma anche qui rido io sono girati con due macchine da parte mia una fissa la lasciavi una sì qualche volta mi sono comprato un cavalletto però di quelli fotografici proprio che ci appoggi la macchina sopra e lo lasci là e l'altra a mano e facevo due macchine siccome sul set di nanni non avevo ancora questa non avevo fatto ancora questa questa pensata a un certo punto ho detto vabbè questi qua questa macchina è considerato il ripristino della parete quanto tempo avremo cioè quante quante ripetizioni avremo eh quanti tre ok uno me lo faccio da qua e poi ho detto ragazzi ma sai che faccio convinco l'attrezzista non lo so come faccio faccio qualcosa vado a mettere la macchina dentro allo studio lì dentro alla parete di vetro alla fine mi riesco a intrufolare dico all'attrezzista che la metto lì sta sicura io me ne vado non ci sto così 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 l'attrezzista si chiama Claudio Stefani ci vogliamo un grandissimo bene ed è un mio grandissimo alleato sul set lui e il suo assistente Costanti e quindi macchina lì l'ho fatta partire panico perché il ciak non partiva cioè nel senso giriamo io avevo premuto rec che me ne ero andato detto vabbè qua me ne devo andare e aspettiamo motore tempo 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 facciamo questa cosa siamo pronti controlliamo questa aspetta ma l'inquadratura mettiamo l'altra macchina cambia lente stringi e ho detto ragazzi questo qua sta andando e se si scarica e se sei inceppata e se sei scordato di mettere a fuoco comunque ragazzi io è un parto cioè ero il padre che aspetta che la madre partorisca nella sala un parto alla fine impatto stop io schizzo dentro prendo la macchina me la riguardo e lì ho detto ah è fatta sono rotta le acque è fatta tu vuoi fare questo perché per molti è un trampolino e fare il lungometraggio quindi diventare regista e fare fiction ora questo sicuramente è un tuo sogno ma non è che piano piano ci stai prendendo gusto sui backstage hai deciso di fare solo documentari di backstage eh ragazzi quando sono documentari sì cioè quando quando si tratta di di set in cui io posso fare un un lavoro che che non sia soltanto quello di fare la clipettina di due minuti con l'intervista all'attore e e con le papere perché poi io non so voi lo fate questo mestiere è capitato che le produzioni vi mandino il le loro richieste epichei con papere cioè proprio che loro vogliono vedere ah scuso sbagliato rifate cioè a me io se lo devo fare lo vorrei fare su progetti tipo i film di Nanni tipo i film di Martone dove per esempio Querido Io è stato un affresco incredibile su un grande autore napoletano e sugli altri diciamo così nostalgia è stato un come dire un insight nella nel rione sanità che sì c'è il film però tu lì stai raccontando un film girato dentro il rione sanità e vi assicuro che è un'altra cosa quando abbiamo girato Natale in casa cupiello con Edoardo De Angelis nel centro storico di Napoli lì pure è stato molto stimolante perché abbiamo raccontato quello che c'era attorno al set ho girato anche un documentario sul presepe napoletano che poi ha fatto da appendice al backstage quindi diciamo che quando si tratta di cose del genere allora sinceramente sì lo farei sempre voglio dire ragazzi ma io io di questo ero già sicuro cioè quando quando dopo tre piani io diciamo cominciai vagamente a supporre che Nanni stesse lavorando a nuovo film e ho detto Nanni comunque poi mi chiami pure sul prossimo e lui qualche volta me l'ha detto no Elio ma devi fare il film tuo e io con molto candore ho detto Nanni io voglio fare prima il film tuo poi facci il mio Lorenzo Giuseppe intanto Lorenzo poi ricordaci dove si può vedere si può recuperare per chi non l'ha mai visto il film tre piani e se avete altre domande al momento allora tre piani lo potete recuperare a noleggio sulle principali piattaforme di streaming tipo Rakuten Cili Apple TV Plus insomma le più grandi Svod che abbiamo presenti in Italia e poi volevo ricordare la parte tecnica che ha usato Michele D'Atanasio Michele D'Atanasio per raccontare tre piani ha scelto Aria Alexa Mini e Aria Alexa XT Plus con le like a Sammicron sì conferma il backstage è sempre in un video immagino backstage completo sì 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 il backstage è sul DVD e su Blu-ray è certo interessante sia andato in sala ci sono state delle proiezioni pensate proprio per distribuire anche ma solo al nuovo Sucker di Nanni no 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 è andato al nuovo Sucker e poi in alcune sale Perugia a Milano è stato sicuramente mi sembra Vicenza forse Genova comunque sono tutte sale che che hanno un ottimo rapporto con Nanni lo invitano spesso e Nanni quindi ha deciso di mandare anche a loro il backstage e poi sì c'è stata la proiezione al nuovo Sucker ma come si pubblicizza in questo caso cioè si accoda in termini di comunicazione perché io per esempio che sono di Roma non non l'ho saputa questa cosa sarei sicuramente è andato in sala si pubblicizza si pubblicizza che lui ha ha messo la locandina al nuovo Sucker è stato credo che sia circolata la locandina da qualche parte sui social su facebook credo sicuramente agganciandolo al periodo di distribuzione del film comunque cioè come se fosse un po' una costola del film anche nello stesso periodo di tempo parliamo di settembre 2021 quando è uscito allora no ragazzi io credo io non vorrei sbagliarmi ma non è uscito immediatamente cioè adesso mi confondo cioè l'uscita io non ricordo se è successa qualche giorno dopo o molte settimane dopo in questo momento ho questo vuoto però però sì naturalmente non può uscire mesi dopo il film però non contemporaneamente cioè non è che lo stesso giorno è uscito il film è uscito anche il backstage forse c'è stata una c'è stato uno scarto Nanni ha organizzato una proiezione in mattinata lì al nuovo Sager e mi ricordo che lui mi diceva il computo dei biglietti venduti mi diceva siamo già a 13 biglietti alla fine mi ha detto abbiamo chiuso a 67 non male ragazzi una proiezione di domenica mattina alle 11 e mezza e sono buone il 67 o no il mattine è 67 poi il Sager è nuovo Sager che figata guarda mi mangio le mani essermelo perso mannaggia vabbè allora vedremo guarda ti posso dire una cosa me lo so perso pure io non c'ero perché no ricordo benissimo che mi mi telefonò nanni mi disse quando ci sei di questi weekend tipo 21 28 questo qua questo qua sì e questo no e lui l'ha messo sul weekend no e quindi non so potuto andare perché ricordo che stavi girando nostalgia con Martone esatto esatto può darsi che 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 fosse sì stavo girando nostalgia e addirittura può darsi che fosse un giorno di set perché nostalgia ha avuto un giorno di set di domenica ah mannaggia un giorno abbiamo girato di domenica perché erano dei recuperi erano delle con orario ridotto truppa ridotta però c'è stato c'è stato una domenica che abbiamo girato delle cose inutile dirvi che è stato incredibile perché vuoi dire domenica via vergine alla sanità c'è il post mercato cioè vi lascio immaginare siamo in chiusura e di solito chiudiamo sempre con una curiosità sono sempre belle le risposte non c'è una definizione da dizionario perché poi ognuno ha la sua interpretazione la domanda è che cos'è per Elio di Pace raccontaci come definiresti il backstage che vuol dire che cos'è il backstage di un film potrebbe essere la curiosità che deve essere quella di un bambino di smontare un giocattolo e vedere come si fa bellissimo a me piace molto questa definizione se poi se poi voglio dire non solo smonti il giocattolo ma c'hai pure lì il giocattolaio che mentre lo sta smontando ti fa vedere come si fa è ancora meglio quello è il massimo poi riesci anche a ricomporlo e beh sì 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 anzi giochi meglio dopo sono più belli i giocattoli dopo grazie mille Elio grazie del tutto grazie a voi mi sono divertito tantissimo è stato molto bello scusate se per fare questa puntata è stata l'Odissea però ne è valsa la pena anzi facciamo subito la prossima bravo ci organizziamo pure con Andrea eh dai perfetto parleremo di Quiridoio prossimamente spero il più presto possibile ti ringraziamo ancora davvero di cuore del tuo tempo dei tuoi racconti e come sempre che il video sia con noi alla prossima grazie ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.